sono ponti poco trafficati nulla a che vedere ad esempio con quello di casal maggiore colorno recentemente aggiustato con quello messo non certo bene tra bozzo le marcaria ma si tratta comunque di strutture che necessitano dell'adeguata cura e attenzione questo per dire che non sembra proprio essere un buon periodo per i ponti nemmeno per quelli secondari talmente secondari che per accorgersi del misfatto avvenuto presumibilmente nella notte tra lunedì e martedì è servita una coppia di ciclisti della zona che si è regalato una mattina libera questo martedì per un po di relax su due ruote la scoperta è avvenuta attorno alle ore 8 sul ponte che collega il territorio prevalentemente agricolo in quel punto tra arriverò lo mantovano e tornata tramantova e cremona dunque un ponticello che solta un canale che è stato però danneggiato da un camion alla parte finale o iniziale a seconda della prospettiva del guardrail il camion ha perso pure due ruote nel primo caso completamente nel secondo invece ha perso lo pneumatico con quello che restava del cerchione che ha creato non pochi danni all'asfalto il camion infatti come hanno appurato anche gli agenti della polizia locale di rivarolo mantovano è arrivato sin quasi alle porte d'accesso del comune virgiliano per poi fermarsi evidentemente per cambiare le gomme come è stato possibile dedurlo dalla lunga striscia bianca sull'asfalto il segno lasciato dal cerchione e dal fatto che proprio vicino all'ingresso di rivarolo si trova ora una grande crepa sull'asfalto dopo quella crepa il segno non ricompare più probabile che a quel punto il camionistri sia deciso a effettuare una riparazione di fortuna non è tutto due ponti dopo una struttura ancora meno utilizzata della prima ma comunque sfruttata da camion e trattori altro scenario simile qui addirittura è stata abbattuta la colonna di cemento di sinistra che sostiene l'inferiata non a caso ripiegata quasi su se stessa un altro danneggiamento quindi dovuto quasi certamente a una manovra probabilmente una svolta effettuata con poca perizia c'è chi sostiene che la colpa sia dei cosiddetti camionisti stagionali che non hanno molta pratica con questi mezzi pesanti ingombranti ma sono indispensabili nel periodo estivo per il trasporto della merce intanto a proposito di camion fuoristrada tornando e passando per villanova frazione di rivarolo del re abbiamo notato un rimorchio sdraiato su un fianco pure qui dopo una manovra forse ardita come a dire non è proprio periodo grazie a tutti grazie a tutti